Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it. Quest'oggi parleremo di come applicare un effetto video, una color correction, direttamente alle immagini sorgente in Adobe Premiere Pro. In altre parole, vedremo come poter applicare una color correction o un effetto video non agli elementi singoli in timeline, ma direttamente al file sorgente in maniera tale da fare l'operazione di color correction o di applicazione dell'effetto una volta soltanto. Immaginate di lavorare ad un'intervista dove avete un'inquadratura molto stretta, quindi un primo piano ed un totale. Immaginate di dover modificare la color correction per i primi piani e per il totale. Ecco, uno pensa, magari vado a fare la color correction in timeline su ogni elemento singolarmente con un copia e incolla. Ok, si può fare, ma quanto tempo perdiamo? Ecco, noi vedremo invece come fare la color correction o, ripeto, anche l'applicazione di un effetto video una volta soltanto, direttamente sul file sorgente, in maniera tale da trovarci poi le nostre modifiche direttamente già applicate in timeline su tutte le clip video, chiaramente, che sono originate da quell'elemento, da quell'oggetto multimediale sorgente. Ne parleremo tra un secondo. Prima però vi ricordo, come sempre, il mio sito internet www.fabioambrosi.it, sito dove troverete, ormai chi segue questi corsi lo sa benissimo, gli articoli di queste lezioni, troverete anche l'indice degli argomenti trattati, che tratteremo. Ormai siamo quasi arrivati alla fine di questo corso introduttivo di Adobe Premiere Pro, ma c'è già il corso introduttivo ad After Effects sul sito, quindi anche sul canale YouTube. Fate una campattina sul sito, troverete l'indice con gli argomenti, dicevo il canale YouTube, iscrivetevi se ne avete voglia a questo canale, c'è già il corso di After Effects, altri arriveranno, quindi mettete un like al canale, registratevi. E a proposito di like, se vi fa piacere, cercate anche la pagina Facebook Fabio Ambrosi, in maniera tale da non perdere eventuali prossime novità, lì daremo tutte le notizie. Basta così, torniamo a Premiere, parliamo di applicazione veloce di effetti video di Color Correction, detta in parole molto povere. Un esempio pratico, io ho una clip video qui, o meglio, ho tre clip video, anzi ho due clip video, ok? Due clip video. Una in cui arrivo alla macchinetta del caffè, metto la cialda, un'altra in cui il caffè inizia ad uscire, la terza in cui prendo e me ne vado, ok? Allora, dicevo, sono in realtà due clip video, perché? Perché quello che ho fatto è prendere questa prima clip video in cui metto la cialda nel caffè, interromperla, mettere la seconda clip video con il caffè che esce, poi prendere la clip video di prima, prenderla in un secondo momento, ora non è preciso, ma è tanto per farvi capire quello che vogliamo fare, e io prendo e me ne vado, ok? Quindi sono due clip video, la prima con l'inquadratura mia in un totale, la seconda con il caffè che esce, fantastico. Immaginiamo di voler modificare la Color Correction a questa camera totale, ok? In cui si vede la mia figura di spalle che inserisco la cialda e poi me ne vado. Un approccio, come dicevo prima, corretto, ma impreciso e che ci può far perdere molto tempo è quello di prendere la prima clip, andare nel pannello Colore Lumetri, modificare la Color Correction a nostro piacimento, facciamo un effetto stile Matrix, quindi speriamo un po' i verdi, via, ecco, ora non era proprio così, Matrix era meglio, ma stiamo facendo un esempio, quindi non prendete questi esempi, ovviamente alla lettera, e abbiamo fatto la modifica alla prima clip video. Qual è il problema? Il problema è che la seconda istanza della clip su cui stavo lavorando è rimasta con i suoi colori originali, ok? Quindi cosa dovrei fare? Dovrei prendere l'effetto Colore Lumetri applicato prima, quindi nel pannello Controllo Effetti, fare un Ctrl-C, selezionare la seconda clip, fare un Ctrl-V, ed ecco che l'effetto della Color Correction applicato prima viene applicato anche alla seconda clip. Ok, si può fare, e si fa, però, dicevo, immaginate di avere una timeline non così semplice, eh, ma molto più complessa, ecco, risettiamo tutto, immaginate di avere una timeline composta da 20 minuti di clip che si succedono, di intervista, primi piani, immaginiamo di voler modificare solo i primi piani, eh, eh, dobbiamo selezionare tutti i primi piani in timeline, fare il copia e incolla a tutte le clip. Ok, si può fare, ma non si fa, perché? Perché ci fa perdere molto tempo e soprattutto rischiamo di selezionare per sbaglio qualche clip che in realtà deve rimanere, eh, non color corretta, e rischiamo di perdere tempo poi a correggere, a capire dove e perché abbiamo sbagliato. Qual è l'approccio più corretto? È lavorare direttamente sulle immagini sorgente. All'inizio di questo corso di Adobe Premiere ho spiegato come nel pannello progetto sono presenti questi che sono gli oggetti multimediali del nostro progetto. Abbiamo detto che questi oggetti multimediali in realtà non sono i file video originali e presenti sul nostro hard disk. Questi oggetti qui non sono altro che dei collegamenti, o meglio, degli oggetti che contengono le informazioni per andare a recuperare il video nel file presente sul nostro hard disk. Quindi sono solo contenitori, se volete, che contengono il link al file video sul nostro hard disk. Tant'è vero che io posso eliminarli tranquillamente e non vado ad eliminare i file sull'hard disk. Ora qui mi dice che qualche file è presente in timeline, però io posso eliminare serenamente. Io non ho eliminato nessun file dal mio hard disk. I file restano sull'hard disk, ok? Sono oggetti. Perché è importante capire questo? È importante capire questo perché quando io adesso vado ad applicare la color correction non alla clip video qui in timeline, ma a questi elementi direttamente, io vado ad applicare l'effetto video alla color correction all'oggetto che contiene le informazioni del video. Quindi ogni volta che utilizzerò questo oggetto in timeline le informazioni di color correction verranno aggiunte alle informazioni del video e questo vuol dire che posso utilizzare quante volte voglio un oggetto del progetto in timeline portando dietro tutte le modifiche fatte al file sorgente. Ok, non si è capito nulla di quello che ho detto. Facciamo un esempio e vedrete che tutto è molto più chiaro. Cominciamo dalla clip di prima, ok? Facciamo la stessa cosa di prima con gli oggetti che avevamo prima. Color correction a questa immagine. Voglio che questa color correction che faccio su questa prima immagine venga fatta automaticamente anche su questa seconda immagine che, lo ripeto, è sempre lo stesso oggetto utilizzato due volte, ok? Cosa devo fare? Se guardate bene nel pannello effetti c'è una tab chiamata principale. Non fatevi confondere dal nome, immagine sorgente. In realtà è molto forviante questa dicitura. A noi ci interessa la tab chiamata principale. Clicco sulla tab principale e vedete che questa tab è completamente vuota, ok? E voi direte, cosa ci va qui dentro? Bene, qui dentro ci vanno gli effetti video che noi vogliamo applicare non a questa singola clip in timeline ma direttamente a questo oggetto multimediale su cui sto lavorando, ok? Facciamo un esempio, così capiamo subito. Applico un effetto di colore lumetri direttamente qui nel tab principale del pannello controllo effetti modifico qualcosina, modifichiamo la temperatura colore modifichiamo la tinta ecco, facciamo così magari aumentiamo un pochettino di poco l'esposizione e va bene per adesso lasciamolo così, ok? Questa modifica fatta qui nella tab principale del pannello controllo effetti questo effetto applicato qui viene applicato ovviamente a questa che era l'immagine da cui siamo partiti ma anche a quest'altra immagine vedete? Io non ho dovuto duplicare l'effetto non ho dovuto copiarlo e incollarlo perché questa seconda clip non è altro che questa clip utilizzata due volte, ok? Facciamo un altro esempio con questa immagine che non è stata color corretto quindi tasto destro del mouse rivela nel progetto questa è la clip, ok? Questa è la clip del caffè che esce nella macchinetta, ok? Io vado a utilizzare questa clip una seconda volta in timeline, ok? Facciamo che la utilizzo qui non ha molto senso quello che sto facendo chiaramente ma è a puro scopo dimostrativo questo tutorial e ancora una volta qui quindi ho utilizzato questa clip tre volte uno, due e tre, ok? Ora, io volessi applicare una color correction o un effetto facciamo l'esempio di un effetto a questa clip cosa devo fare per mantenere le modifiche fatte a tutte le istanze della timeline? controllo effetti, tab principale e applichiamo un altro effetto non so, sfocatura io per qualunque motivo voglio sfocare questa immagine solo questa immagine ogni volta che è presente in timeline cerco, sfocatura gaussiana la applico non alla clip in timeline ma qui al pannello controllo effetti nella tab principale aumento la sfocatura aumentiamola tanto così da rendere l'effetto molto visibile eccolo qua questa operazione ovviamente fatta direttamente sul file sorgente sull'immagine sorgente verrà applicata a tutte le istanze di questo oggetto in timeline quindi qui, qui, qui e se io vado ad utilizzare ancora una volta questo file sorgente vedete l'anteprima già viene con l'effetto applicato perché è un effetto che viene messo non in timeline ma direttamente sul file sorgente quindi posso utilizzare questo effetto ancora un'altra volta e questo effetto viene ereditato o meglio, sì, o meglio l'oggetto in timeline eredita l'effetto presente sul file originale ok? altro esempio perché abbiamo fatto l'esempio prima della color correction di un effetto rifacciamo un esempio della color correction perché direte voi? perché io prima vi ho fatto vedere come la color correction si possa fare ovviamente direttamente sul file sorgente andando sul pannello controllo effetti e poi pannello principale ok? del pannello controllo effetti tab principale del pannello controllo effetti bene eliminiamo questo effetto quindi seleziono il cancio sulla tastiera e automaticamente l'effetto viene tolto ovviamente da tutte le istanze eh? dell'oggetto in timeline dicevo cosa voglio farvi vedere? come quando facciamo la color correction Premiere è intelligente ha capito quello che dobbiamo fare ha capito che noi non vogliamo perdere tempo e se guardate il pannello colore lumetri ok? notate che lo stesso la stessa tab principale è presente anche qui vedete? abbiamo l'immagine sorgente ancora non fatevi fuorviare da questo nome e c'è la tab principale clicco sulla tab principale faccio tutte le modifiche alla color correction che voglio torniamo all'effetto matrix di prima ok? fantastico togliamo un po' di saturazione ok in questo momento ho modificato evidenziando questa tab non il singolo oggetto ma tutte le istanze dell'oggetto originale quindi questa seconda istanza erediterà la color correction di prima ovviamente di default Premiere quando clicchiamo su un oggetto e abbiamo il pannello colore lumetri aperto va sull'immagine sorgente che è la tab principale che modifica solo la color di questo elemento qui se io tornassi alla tab principale vedo che ci sono state applicate i parametri applicati i parametri che avevamo applicato prima faccio un'altra modifica non so aumento il contrasto tolgo un po' di esposizione sempre nel pannello principale torniamo alla clip di prima vedete che le modifiche appena fatte sono state nuovamente ereditate perché noi stavamo stavamo modificando non l'oggetto ma non l'elemento in timeline ma direttamente l'oggetto sorgente ok? io spero sia chiaro questo concetto ora forse in questo esempio piuttosto semplice non viene mostrata l'utilità reale di questa funzione però ripeto immaginate di avere una timeline molto complicata con un'intervista primi piani e totalini e tante 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 clip tanti oggetti multimediali ecco piuttosto che modificare ogni singolo elemento e copiare e incollare la stessa color a più elementi modificate direttamente il file sorgente ok? così risparmiate sicuramente tantissimo tempo bene con questa lezione finisce qui la sezione dedicata alla color correction non perché siano terminati gli argomenti da trattare ma perché come già detto all'inizio di questo blocco di tutorial la color correction è qualcosa che richiede tanto tempo tanta competenza tanta esperienza e soprattutto qualcuno che lo faccia di mestiere i direttori della fotografia fanno questo di mestiere e i colorist poi sono molto brevi ad utilizzare tutti i tool disponibili per lavorare bene alla color correction questo è un corso introduttivo ad adobe premiere quindi noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la color correction lasciando a voi il compito di approfondire se volete approfondire questo argomento nel prossimo tutorial nella prossima lezione inizieremo a parlare della grafica quindi vedremo come fare dei titoli semplici inizialmente come aggiungere piccoli elementi grafici come righe come righe piuttosto che testi o quadrati o forme geometriche semplici vedremo come utilizzare la grafica essenziale in adobe premiere vedremo come poi utilizzare anche after effect per creare elementi molto semplici utilizzabili anche nei nostri progetti video qui in adobe in adobe premiere c'è il corso introduttivo ad after effect sul sito internet www.fabioambrosi.it trovate tutti gli argomenti iscrivetevi a questo canale che già ospita i primi tutorial del corso di after effect e se vi fa piacere per tutte le novità ci sentiamo su facebook cliccate la pagina fabio ambrosi grazie mille al prossimo video tutorial ciao